Buongiorno FTI Online, tentativo di rimbalzo questa mattina per il Fuzzi Mib che in questo momento si sta confrontando con il lato alto del canale ribassista che parte dai massimi del 7 di novembre, i prezzi hanno toccato infatti un massimo di 22.260 punti proprio in corrispondenza della nostra linea di tendenza, al di sopra di quei livelli segnali interessanti di rialzo, target 22.5 e 22.750, la mancata rotura di 22.260 invece potrebbe comportare una nuova fase ribassista, ma solo al di sotto di area 22.100 ci sarebbe il rischio di andare ad interessare nuovamente la forte area di supporto dei 22.000 punti. Stamattina iniziamo con la nostra carrellata di titoli con IGD, un titolo che si è comportato bene nelle ultime due giornate e anche oggi sembra dare un seguito al rialzo che abbiamo visto dai minimi del 15 novembre a 0,9730. Megatrader che è la nostra applicazione di analisi tecnica sviluppata in collaborazione con Trend Online, valuta il titolo con un rating 5, quindi il massimo voto che è possibile dare ad una situazione di tendenza, la posizione è long dal 12 ottobre al momento, su questa posizione il sistema sta guadagnando il 20% circa. Il prossimo target che viene indicato come raggiungibile nel breve termine si posiziona a 1,0870, quindi al di sopra dei massimi che il titolo ha toccato il 3 novembre a 1,07, in questa mattina siamo intorno a 1,06. Ci sono quindi buone prospettive di andare a superare i massimi di inizio mese per proseguire la fase crescente. Il rialzo che abbiamo visto nel corso dell'ultimo anno si muove all'interno di un canale crescente del quale recentemente è stato superato il limite superiore. Quando questo succede si può utilizzare la ampiezza del canale come unità di misura per andare a cercare i prossimi target raggiungibili al superamento della resistenza, quindi per IGD il prossimo target si posiziona intorno a 1,14 e mezzo. Buone prospettive quindi su questo titolo che dovrebbe proseguire la fase crescente che ormai ne caratterizza l'andamento da circa un anno. Passiamo invece adesso a dei titoli che hanno una condizione grafica decisamente diversa, iniziamo con Leonardo che è andato incontro, come probabilmente sappiamo tutti, ad una fase di ribasso molto importante, caratterizzato da volumi decisamente elevati, ecco il record di volumi del 10 novembre, ma nelle ultime giornate c'è stata una frenata rispetto al violento ribasso che ha caratterizzato le ultime due settimane con il titolo che sembra intenzionato a mettere a segno un rimbalzo. Questa mattina siamo a 10,30 Euro, la prima resistenza data dai massimi di ieri a 10,30 e 10,68 praticamente coincidenti con quelli di 3 giorni fa a 10,72, quindi area 10,70 è la resistenza da battere per confermare la voglia di rimbalzo, le oscillazioni che abbiamo visto nelle ultime 3 sedute sul grafico Entraday hanno dato luogo a una figura doppio minimo, quindi una figura dal buon potenziale di rialzo, c'è tutto questo ampio gap ribassista da ricoprire, se i prezzi riusciranno a sedere a di sopra i 10,70, si poteva iniziare a immaginare il ritorno almeno sui 12 Euro, quindi pur in una situazione deficitaria di grave difficoltà evidenziatasi nelle ultime sedute, per Leonardo i presupposti per un rimbalzo ci sono e rimarranno fino a che i prezzi si manterranno al di sopra dei 10 Euro e quindi quella è la quota da utilizzare come stop loss in caso di avvio, di posizione a rialzo al di sopra di 10,70, più target abbiamo detto intorno ai 12 Euro, ma poi ci sarebbe la possibilità di salire almeno fino a testare i minimi del 29 agosto che rappresentavano la base del doppio massimo che i prezzi hanno disegnato intorno ai 16 Euro, quindi buoni spazi di crescita anche se ovviamente necessiteranno conferme nel corso di rialzo per potersi sbilanciare verso gli obiettivi più lontani. Infine guardiamo Exor, una situazione interessante perché i prezzi nella seduta ieri hanno toccato un'importante area di supporto, infatti vediamo che i minimi di ieri di quota 51,70 praticamente sono coincidenti con quelli toccati a fine ottobre il 20 e il 23 di ottobre, un area di supporto quindi molto rilevante che per il momento ha contenuto le spinte ribassiste, questa mattina c'è un tentativo di rimbalzo, siamo a 52,60 Euro, massimo di ieri a 52,75 Euro, il superamento di livelli sarebbe un primo segnale in favore di una ripresa che al di sopra del minimo del 14 di novembre a 53,30 Euro, lato alto del gap che si è aperto il 15 di novembre, potrebbe lasciare sperare nel ritorno sui 56,50 Euro, sicuramente da un punto di vista di profilo di rischio Exor è un titolo in questo momento da tenere sotto stretta osservazione perché come vediamo gli spazi potenziali di crescita sono notevoli, mentre il rischio che è dato dall'attivazione dello stop loss e che sarebbe appunto da posizionare subito di sotto i 51,70 è tutto sommato limitato rispetto al potenziale di guadagno che ci potrebbe essere se come sembra il titolo proseguirà nella sua fase di rimbalzo. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento a lunedì con il consueto commento giornaliero, invitandovi come sempre a commentare i nostri video suggerendoci quelli che potrebbero essere i temi di vostro interesse.